Ciao a tutti e ben ritornati in un nuovo video Ho appena rimesso dentro i miei porcellini d'India che li avevo fatti uscire Io però avevo il telefono scarico visto che era tardi l'ho messi dentro Chi c'è? Che c'è successo? Che carini Veniamoli tutti e due Guardati che carini Va bene adesso l'ho rimessi dentro Ciao a tutti